buonasera a tutti i partecipanti a quanti si stanno si sono già collegati e si stanno mi auguro per collegarsi al più presto siamo tanti e questo nostro primo webinar della stagione 2018 2019 voglio darvi qualche suggerimento qualche indicazione soprattutto a quanti non conoscono la piattaforma che in genere utilizziamo per i nostri webinar vale a dire vi conviene tenere il pannello di controllo che vi appare sullo schermo alla destra del vostro schermo e in modo tale da poter avere in evidenza il video dei nostri relatori e qui già collegato leonardo surico che ringrazio la sua presenza sarà con noi maurizio testa sul webinar che ha come tema oggi scenario opportunità per i professionisti del turismo in italia con la presentazione appunto della prima borsa dell'incoming del turismo esperienziale che si terrà a venezia vorrei fare qualche prova per vedere se tutti quanti voi diciamo ascoltate e vedete correttamente un'ultima indicazione come forse qualcuno già ha fatto sul pannello di controllo a sinistra trovate una manina e quella che potete cliccare per fare delle domande per intervenire perché nella seconda parte del nostro webinar ciascuno di voi potrà rivolgere delle domande a ciascun relatore o a entrambe i relatori ho visto che ha alzato la manina rosalia mantegna che saluto e quindi proviamo chiedo a qualcuno di voi di alzare le manine in modo tale che io poi apro il vostro audio e quindi voi potete collegarvi audio con il webinar tutti quanti i partecipanti potranno ascoltarli do la parola a rosalia se ci saluta se ci può dire che tutto ok rosalia non rosalia ci ascolta e ci vede correttamente pronto e allora proviamo qualcun altro che si è candidato vediamo maria novella vediamo se maria novella ci ascolta maria novella ci ascolta buonasera si sento e vedo tutto perfettamente grazie perfetto lei da dove ci segue dalla toscana in maremma vicino a grosseto benissimo ok io sono a bari nel golfo di venezia a sud del golfo di venezia venezia è la sede da cui leonardo ci parla sede del vitesp e poi avremo maurizio testa da milano benissimo e allora così come ha fatto maria novella chi alza la mano possiamo provare adesso qualche altra qualche altro partecipante nel frattempo ringrazio maria novella e chiude il suo audio vediamo se qualcun altro volente rosalia mantegna il collegamento ci ascolta ci segue bene perfetto ok anche noi la sentiamo molto bene perfetto ok grazie e allora a dopo con l'auspicio che eh quanti di voi vogliono far domande possano intervenire nella nello spazio che daremo successivamente sentiamo Michele Gianmarino Gianmarino buonasera Michele buonasera ci ascolta ci vede correttamente si ascolto bene grazie perfetto da dove ci segue lei? Chieri provincia di Torino benissimo ok com'è il tempo lì? Luvoloso perfetto ok così anche in diretta vediamo un po' di nella nostra Italia come che tempo che fa ok grazie Michele allora ci aggiorniamo dopo eh vogliamo sento un altro paio di eh di eh persone che vogliono provare Massimiliano Dell'Anna vediamo se Massimiliano ci ascolta e ci segue correttamente Massimiliano buonasera l'audio di Massimiliano non mi funziona vediamo un po' che eccolo qui Massimiliano? Quanto mi sentite? Perfetto molto bene ci segue correttamente? Massimiliano ci ascolta correttamente ci vede correttamente? Sì vi sento vi sento correttamente vi saluto da Lecce anche noi lei da dove è collegato? Da Lecce. Perfetto fantastico siamo due due punti per la per la regione Puglia e gli altri ancora uno va bene grazie Massimiliano dopo allora ehm bene e allora eh aspettiamo perché vi siete collegate già in molti ma siamo oltre centoventi a partecipare qualche ritardatario c'è ancora e quindi ehm ricordo per chi si fosse collegato adesso che vi conviene tenere il pannello di controllo sulla vostra sinistra in modo tale sulla 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 destra del vostro schermo e eh il video in alto la la videata delle dei dei tre eh collegamenti che voi vedete potete regolarla anche in termini di dimensione anche perché condivideremo eh i i relatori condivideranno il testo quindi avrete la possibilità poi di avere il più ampio spazio per poter seguire le slide che vi eh proporremo. Nel frattempo dovreste vedere la mia home page che eh è appunto ehm presenta il sito del BITESP che vi consiglio di eh di di andare subito quanto prima a eh visitare perché già contiene tutta una serie di eh informazioni estremamente utili per poter eh partecipare se lo vorrete a questo evento che è veramente una 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 prima in assoluto nel panorama italiano. Bene e allora eh chiedo eh verifico se Maurizio Testa è collegato in modo tale che con qualche minuto di ritardo riusciamo comunque a partire a rispettare grosso modo buonasera Maurizio ben trovato quindi a rispettare i tempi vi ricordo che abbiamo un'oretta di tempo se ci saranno molte domande cercheremo di sforare di dieci minuti non di più in modo tale che poi ognuno può tornare ai suoi impegni. E allora innanzitutto buonasera a tutti eh a me il piacere come coordinatore dell'Artesse Academy di darvi il benvenuto al primo incontro di webinar che ormai il terzo anno che ehm proponiamo agli innovatori del turismo e a chi vuole occuparsi di turismo esperienziale come Artes e quest'anno anche qui eh anche grazie ad un un sondaggio che abbiamo fatto cercheremo di affrontare temi che ci avete suggerito e negli orari e nei giorni che ci avete suggerito e quindi un grazie a tutti a tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio che abbiamo proposto a settembre e quindi da oggi partiamo con i due appuntamenti che eh periodicamente che mensilmente appunto faremo e che dedicheremo ai temi dell'incoming del turismo esperienziale per cercare di capire di più ma soprattutto di fare rete tra di noi e di ehm vivere insieme questa sfida dell'innovazione del turismo e dell'incoming. Abbiamo voluto mh iniziare con il BITESP perché veramente nel panorama eh italiano è una novità assoluta e quindi io ringrazio Leonardo Surico che è il responsabile, l'organizzatore, il guidatore eh del del BITESP di essere con noi perché anche attraverso la presentazione del di questo evento che si terrà a novembre avremo la possibilità di capire quali sono eh gli orientamenti e le le novità e cosa oggi il il mercato sia dell'offerta che soprattutto della domanda eh ci chiede come operatori e come protagonisti del sistema turistico italiano. Eh ricordo che eh ovviamente siamo un pubblico abbastanza variegato e quindi ci sono alcune guide operatori turistici, tour operator, eh operatori dell'intermediazione commerciale così come eh coloro che si occupano di accommodation. Vediamo di fare subito un sondaggio, ne faremo alcuni per interagire. Chi di voi ha già partecipato ad un eh eh webinar eh di eh potete eh potete eh rispondere non so se vedete il avviamo il sondaggio, i sondaggi consentono molto velocemente di avere delle vostre risposte, dovete cliccare ovviamente eh secondo le istruzioni, vediamo se eh cosa viene fuori, se eh c'è una parte di abituer diciamo così dei nostri appuntamenti oppure se molti di voi sono 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 nuovi, hanno ci ci seguono e speriamo ci seguiranno in questi nuovi appuntamenti. Bene, io chiudo il sondaggio, i sondaggi li dovremo fare molto velocemente perché il tempo passa, chiudiamo il sondaggio, condividiamo i risultati e quindi c'è un un terzo esatto che hanno già partecipato ai nostri webinar quindi a maggior ragione do un caro rosso e un benvenuto a i molti che eh quasi il cinquanta per cento eh per la prima volta partecipano a questi nostri appuntamenti che ricordo essere molto interattivi eh e quindi crediamo molto nella fase delle domande successive. Peraltro già eh in fase di iscrizione qualcuno di voi ha fatto delle domande io di volta in volta le girerò ai nostri relatori nel momento del dibattito però preparatevi nel dibattito a fare delle domande. chi vuole o chi ha difficoltà a intervenire sul pannello di controllo c'è la 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 il riquadro delle domande e quindi se avete difficoltà perché non avete microfono potete fare delle domande utilizzando il pannello in modo tale che io possa girarle eh immediatamente ai relatori. Bene e allora eh un grazie ai relatori che chiedo brevemente di presentarsi eh la parola innanzitutto all'ospite Leonardo Surico come vi ho detto è il l'idea 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 diciamo di realizzare un un evento turistico dedicato al turismo esperienziale ehm è stata una cosa che già avevamo in mente da tempo. io personalmente mi occupo di turismo e di promozione turistica in particolare dalla 95 ho sempre avuto modo di cui diciamo di contattare gli operatori del settore essenzialmente gli albergatori gli agenti di viaggio e ehm diciamo tutti ehm sono stati sempre alla ricerca di un qualcosa che potesse come da un lato aumentare eh diciamo allungare la stagionalità di una struttura eccettiva e dall'altra eh diciamo eh diciamo aumentare l'occupazione alberghiera soprattutto soprattutto per dire di bassa e media stagione. È chiaro che il problema di tutti gli operatori turistici non è certamente per fatto riguarda l'italiano lullo agosto per il mare oppure le vacanze di Natale o le settimane bianche per la montagna. Il problema principale sono le stagioni intermedie che da un lato chiaramente sono in periodo come posso dire l'altro l'altro dato importante era quello di cercare un qualcosa che eh contribuisse alla alla valorizzazione dei territori perché è chiaro che ehm una località come Rili, Cortina, Viareggio, Gallipoli e Costiera Martitana eccetera si conoscono e conoscono in tutto il mondo delle località eh eh minori come eh so da noi nel Veneto passando il Grappa, Asolo che sono nel loro genere delle chicche però sono conosciute essenzialmente nel Veneto fuori o fuori. Per cui per dar modo di eh come posso dire di eh eh valorizzare questi territori sia dal punto di vista eh turistico ma anche da quelli che sono loro risorse le eccellenze eh eh meno gastronomiche ma anche le eccellenze eh di canali produttive diciamo che eh diciamo che eh abbiamo cercato appunto per queste motivazioni di organizzare un evento proprio incentrato su queste cose e da qui deriva dopo tutto il discorso del ragazzo con il turismo esperienziale questo eh anche partendo dal rato statistico che attualmente eh quelle che sono le motivazioni che eh così eh influenzano la scelta di una vacanza 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 di quella della Sardegna, le cittadate del Veneto, del Lazio e così via. Adesso invece si va in vacanza non solo per godere della località, ma anche per fare un qualcosa, per praticare un proprio hobby, la propria passione. Ogni giorno diciamo che il turista cerca l'emozione, cioè di fare un qualcosa, infatti mentre una volta uno dice dove sei stato, sei stato di qua, sei stato di là attualmente, molte volte uno dice, sì sono stato al mare, ho fatto un corso di vela, ho preso il patentino quadri per il sub eccetera, oppure ho fatto, ho praticato con la mountain bike, sono andato su per le cose eccetera eccetera. Diciamo che questo è un segmento di mercato in forte ascesa, sia nel mercato italiano, quello estero probabilmente lo è stato già da prima, e di conseguenza diciamo che questo evento della BITESP dedicato essenzialmente al turismo esperienziale focalizzerà proprio questo aspetto, infatti saranno tre giorni di incontri tra operatori del settore che si confronteranno, discuteranno e probabilmente metteranno le basi per nuove partnership commerciali, nuove accorti per il loro. Perfetto, grazie Leonardo. Leonardo appunto si è presentato ma ha già subito introdotto alcuni temi cardi su cui appunto avremo modo di sviluppare un dialogo nel pomeriggio. Una breve presentazione di Maurizio e poi chiederei a ciascuno di voi, chi vuole intervenire, di farci comprendere lo stato dell'arte della domanda di Italia, della domanda di turismo esperienziale che soprattutto il pubblico internazionale ci chiede e pubblico che noi vorremmo tanto che aumentasse nei nostri territori, oltre che ovviamente i nostri connazionali che possano girare la nostra bell'Italia e quindi andare alla scoperta di tanti territori, come diceva Leonardo, che hanno tanto da dire e da dare ma sono un po' fuori dei circuiti, come dire, tradizionali turistici. A te Maurizio una breve presentazione. Allora buongiorno a tutti, sono Maurizio Testa perché non mi conosce, sono il presidente e amministratore delegato di Artes e coordino il progetto Artes che ha anche una logica più ampia perché la società è l'arma, diciamo, commerciale sia per la linea di business, di formazione, consulenza, progettazione, ma anche per tutte le attività di tour operating che è uno dei motivi per cui eravamo presenti all'ultimo TTG, saremo presenti alla prossima UTM a Londra e poi come parleremo abbiamo l'onore di essere presenti in tandem, anzi invitati da Leonardo, come esperti del settore del turismo esperienziale, settore che è nelle nostre corde ormai da diversi anni. Adesso non so quanto devo già dire rispetto al nostro argomento, posso dire che guardando l'Italia come se noi fossimo il marketing strategico dell'Italia, ecco così anche vi dico che io mi occupo di marketing strategico e ho lavorato in diversi settori di mercato dove il mio compito è sempre stato quello di arrivare come outsider, quindi senza competenze specifiche, con l'occhio di chi non avendo le competenze specifiche guarda le cose per quello che sono, perché di solito chi è dentro diventa un po' come una rana bollita, non so se sapete la storia, tu butti una rana bollita nell'acqua, accendi l'acqua e quella rimane lì e si fa lessare, se invece butti una rana nell'acqua che già bolle schizza fuori subito. Quindi chi è dentro in un settore a volte diventa assuefatto da tradizioni, tribalità, situazioni per cui l'evoluzione, l'innovazione e il cambiamento è sempre molto difficile. Ecco quando mi sono ritrovato ormai nel 2013-2014 a fare qualche analisi sul turismo, emerse chiaramente, in Italia non si parlava quasi per niente di turismo esperienziale, emerse chiaramente che il mondo andava in quella direzione, che stava scoppiando un'evoluzione incredibile nel mondo del turismo e l'Italia era piuttosto indietro. Devo dire che è ancora piuttosto indietro perché quello che mancava era sostanzialmente la professionalità che è richiesta per fare dei prodotti di qualità che siano intermediati dalla filiera in modo sicuro, garantito e quindi la filiera, e sto parlando dei tour operator in particolare, del consulente di viaggio. Quindi chi consiglia di andare in una regione mandano, mandavano ma ancora mandano diciamo con grande affluenza verso la Spagna che ha fatto per esempio numeri da capogiro negli ultimi dieci anni, la Spagna era dopo di noi e ha superato non solo l'Italia ma sapete che nel 2017 ha superato come fatturato addirittura la Francia posizionandosi al numero uno del mondo, la Spagna che ha un PIL che è la metà dell'Italia. Ora non è solo il turismo esperienziale che ha consentito di fare questi numeri, ci sono veramente come dire attività importanti fatte da tutto il sistema spagnolo e quello che possiamo dire è che noi italiani che siamo dentro una crisi epocale da cui come vedete tutti i giorni facciamo fatica a uscire, non c'è dubbio però che in questi ultimi anni posso dire di essere stato testimone di un risveglio perché molte altre industrie non sono più alla nostra portata, costruire una fabbrica di automobili costa più di un miliardo e mezzo, è interessante dire che dare una mano al mondo del turismo a prendere nuove direzioni costa molto di meno. Ora il problema che abbiamo di fronte non è stato un problema quindi di investimento perché lo Stato sta per mettere molti, ha già messo e metterà molti investimenti nelle varie aree che voi sapete dove lo Stato appunto è protagonista ma qui c'è un problema di cambiare un po' la mentalità dell'italiano. Ora noi abbiamo le guide turistiche, gli accompagnatori, abbiamo soggetti che sono ben formati e ben capaci. Ecco il turismo esperienziale richiede una specializzazione, noi ci siamo focalizzati su questo. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo portato una cultura della industria del turismo esperienziale e da questo punto di vista siamo i primi in Italia, io dico ahimè perché c'è bisogno anche di altri e stanno nascendo anche altri perché più l'offerta è professionale, più è credibile e più potremo dirottare flussi di turisti che appunto oggi vanno in alcune regioni dell'Europa, che rimane comunque il primo, la primo diciamo continente a Prodo, voi sapete che il 50% degli arrivi arriva in Europa e invece abbiamo bisogno di portare flussi in Italia, aumentare le presenze, allungare le presenze e appunto aumentare l'attrattività. Quindi in conclusione di questa piccola presentazione Artes è focalizzata esclusivamente sui temi del turismo esperienziale con queste due linee di business che vi ho detto, col sogno di creare una rete crescente che si sta creando in tutta Italia di soggetti che collaborano per portare un prodotto di più alto livello, capace di interessare anche un cliente medio alto spendente e dall'altra parte di attrarre e avere motivi per attrarre una clientela di alto valore tramite anche la filiera offline oltre che con la filiera online. Ok grazie e allora vediamo di fare un altro giro per approfondire questi temi che avete iniziato a toccare nelle vostre introduzioni partendo da alcune domande che abbiamo avuto in fase di iscrizione da parte dei nostri partecipanti. Una mi piaciuta molto dice così oggi tutti scoprono il turismo esperienziale sebbene il turismo sia da sempre esperienziale. Motivi di tanta valorizzazione? Una prima provocazione che vi lancio così come un'altra dice come gli uffici turistici possono non solo promuovere il turismo esperienziale ma aiutare a costruire questo modello nel territorio? Questa è un'altra domanda molto interessante e poi ancora qual è il trend di esperienze che i clienti vogliono vivere? Ovviamente a partire dalle vostre, da quello che avete avuto modo di vedere in questi mesi Leonardo per l'organizzazione della borsa dell'incoming, Maurizio rispetto agli appuntamenti anche che avete avuto modo di seguire. Quindi qual è il trend di esperienze che i clienti vogliono vivere? Che tipologia di pacchetto esperienza viene richiesto? Leonardo? Allora diciamo questo che il turismo esperienziale giustamente come diceva l'ascoltatore è sempre esistito anche perché il turismo è stato sempre inteso come un'esperienza nuova e così via. Diciamo che io posso dire questo che probabilmente il turismo esperienziale come tante altre cose sono anche l'evoluzione di un certo comportamento eccetera. Per quanto riguarda l'ambito turistico diciamo che l'evoluzione delle famose vacanze a tema o vacanze tematiche dei fini a 90, prima 2000. Mi ricordo quando a suo tempo sono stati fatti, sono nati i cosiddetti club di prodotto, già quello è stato un primo passo verso la diversificazione delle varie destinazioni, delle varie tipologie di turismo. Adesso il discorso è questo, il turista è diventato più sensibile. Nascono esigenze per cui sicuramente come ho detto nell'interruzione non basta più la spiaggia, la tintarella oppure la sciata oppure altre cose, cerca qualcosa di più perché sono aumentate le passioni, le esigenze e si cerca di fare sempre un discorso più personalizzato. È chiaro che a livello di promozione, come diceva l'altro ascoltatore, del discorso degli enti pubblici, cioè degli enti di promozione turistica locale. Chiaramente l'ente di promozione turistica, come tutti sappiamo, si occupa della promozione del territorio eccetera. Dopo sta anche alla capacità dei singoli operatori del territorio invocare questa strada, nel senso che dopo il pacchetto turistico viene realizzato dagli operatori turistici, per cui dall'albergatore, dall'operatore, dall'azienda che funisce l'esperienza, che può essere, che ne so, dalla cantina che offre l'esperienza della degustazione del vino, al produttore agregioalimentare che propone la degustazione di prodotti tipici locali, fino ad arrivare, come dicevo prima, al discorso artigianale delle eccellenze del Mediterraneo eccetera. Prima chiaramente l'ente pubblico deve cercare di favorire questo discorso qui, però è chiaro che il tutto dopo deve partire da un discorso anche culturale degli operatori turistici che devono intravedere in questa nuova tipologia di turismo un possibile sviluppo economico e commerciale. Io vedo che comunque a livello di associazioni, organizzazioni varie eccetera si stanno muovendo, una per tutte l'esperienza, ho conosciuto l'esperienza della CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato, che si sta muovendo, si è mossa diciamo in ultimi tempi creando delle convenzioni, delle iniziative proprio per favorire il discorso del turismo esperienziale, proprio che loro fanno essenzialmente per promuovere il territorio e chiaramente tutte le attività inerenti al territorio. Diciamo che da una parte è aumentata la sensibilità del turista, l'esigenza del turista che adesso richiede durante la tua vacanza, l'esperienza, il coinvolgimento, l'autenticità di quello che va a fare, è chiaro che dopo sarà compito degli operatori che già lo stanno facendo in parte, come diceva Maurizio per la verità, però cominciano a farlo eccetera, quello di realizzare, di confezionare questi pacchetti che propongono non solo l'albergo eccetera eccetera, ma chiaramente il soggiorno, però con il discorso di un'esperienza che può essere di qualsiasi tipo in base a quello che sta cercando ogni turista. Ok, grazie Leonardo, spero che poi su questo le vostre domande non manchino. Prima di dare la parola a Maurizio, proprio sul tema che ha affrontato negli ultimi passaggi Leonardo, volevo avviare un sondaggio, vale a dire nel vostro territorio ci sono agenzie viaggio o tur-operettro specializzate nelle incoming? Perché spesso e volentieri noi abbiamo avuto la gran parte delle agenzie viaggio soprattutto che si sono dedicate soprattutto all'outgoing, quindi negli ultimi anni hanno compreso che probabilmente questo è un mercato molto attivo. vediamo un pochino, qualche altro secondo per le vostre risposte, vediamo ancora qualcun altro che può rispondere, dopodiché chiude il sondaggio, poi ovviamente sono utili i commenti su questi due sondaggi che faremo da parte dei nostri relatori, chiudiamo il sondaggio, condividiamo e quindi vedete che le vostre risposte ci dicono che ormai è avvenuto questo passaggio, questo interesse all'incoming e che ci sarebbe molto mercato. Io questa domanda l'ho fatta cinque anni fa e avevo un trenta per cento all'ultima domanda, quindi come vedete e la conferma anche un po' raccogliendo indagine territoriale, noi oggi siamo un po' collegate da tante parti d'Italia, abbiamo la conferma di quello che diceva Leonardo. Quindi un ultimo sondaggio e poi la parola a Maurizio se siamo interessati a collaborare, a partecipare, a realizzare proposte di turismo esperienziale sul parco scenico del nostro territorio, perché come diceva Leonardo il tema della valorizzazione delle risorse del territorio è un elemento chiave anche rispetto alla destagionalizzazione. Vediamo ancora una decina di secondi per consentire a tutti di scegliere una delle risposte del sondaggio e dopodiché condividiamo i risultati e do la parola a Maurizio. Se qualcun altro è ancora indeciso chiedo di farvi un giro di qualche secondo, vediamo un pochino di raccogliere qualche altro voto, noi italiani che siamo ormai specializzati a votare continuamente, chiudiamo il sondaggio, ancora qualcuno, perfetto, e condividiamo i risultati, poi chiedo a partire da Maurizio un commento, ovviamente con il suo spazio, in modo tale che poi abbiamo modo di concentrarci su quelli che sono i temi chiave che il BIRTESP ci propone. Allora vedete che c'è quasi la metà di noi a cui piacerebbe dedicarsi a queste attività, ma non sa da dove iniziare o che non ha le competenze. Un buon 35% già lo fa e sarà importante fare rete insieme proprio per aiutarci al meglio su questo tema. A te Maurizio, grazie comunque della vostra disponibilità e partecipazione ai due sondaggi, ne faremo un altro paio nella prossima parte. Ok, grazie. Se mi puoi girare lo schermo così metto qualche slide di supporto a cui mi appoggio per fare qualche ragionamento e poi ho visto anche alcune domande che sono state fatte e che mi sono segnato, cercherò di rispondere in modo il più sintetico possibile, perché su queste cose si può discutere all'infinito. Anzi, siccome su queste cose discuteremo durante il BITESP, comincio già a evitare che molti argomenti saranno approfonditi da vari relatori. Allora, dunque, io se... come si fa? mostra schermo, scusate che sono un po' impedito. Ecco qua. Allora, adesso noi vediamo un attimino alcune se riesco a non impasticciarmi. Ecco qua, sì. Vedete lo schermo pieno? Sì, vai, procedi. Non sono sicuro di quello che si state vedendo, non ne so capire come si fa. Sì, si, devi aprire il PowerPoint pieno e puoi andare. Si vede la copertina della vostra pubblicazione. Ecco, questo si vede, sì? Ecco. Allora, diciamo, uno delle problematiche... Devi aprire un po' Maurizio, devi aprire le slide. Così, va bene? Perfetto, ottimo, vai. Ok. Allora, uno dei punti di difficoltà è entrare e togliere l'ambiguità delle parole, perché questo purtroppo tutte le volte dobbiamo dire questa cosa, perché quando si parla di turismo esperienziale uno dice, ma il turismo esperienziale come mai è nato? Che cos'è? C'è sempre stato, perché la vita è un'esperienza e quindi perché c'è bisogno. Allora, la definizione che noi diamo, non solo noi, ma diciamo mai è consolidata, è sostanzialmente dove i turisti sono coinvolti in modo, nelle tradizioni locali, con i locali in modo attivo. Quindi il turismo in bicicletta non è turismo esperienziale, è turismo attivo. Vado a cavallo, non è turismo esperienziale, è turismo attivo. Poi io posso costruire o comunque erogare dei servizi, dei prodotti in cui incontro il cavaliere, incontro le situazioni, cioè mi immergo nella cultura locale e cerco di farlo in modo che il nostro turista sia appunto protagonista e non passivo di un'esperienza e a questo punto entriamo nel merito del turismo esperienziale. Sembrano sfumature, ma è molto importante capire. Adesso io più di questo non dico perché quando noi facciamo la nostra formazione già su questo stiamo almeno un'ora per chiarire e togliere qualsiasi dubbio di comprensione. Quindi il turismo ciclistico non è turismo esperienziale, è turismo attivo. Uno fa ciclista, ma se io poi con la bicicletta divento una scusa di trasporto per vivere un'esperienza intensiva per cui faccio delle tappe, conosco le persone del posto, uno mi insegna a cucinare, poi vado a fare un'altra cosa, quindi ho un cocktail, ho un palissesto come diciamo noi di situazioni, ecco lì siamo in pieno turismo esperienziale. Quindi turismo esperienziale, mettere le mani in pasta, immergersi con i locali e poi ci può fare di più che è quello che abbiamo cercato di fare noi col tema dello story living, che è una formula più moderna, più evoluta per caratterizzare un'offerta italiana e motivare la filiera straniera a portarli in Italia piuttosto che andare in Francia. Perché torno a ripetere, quando tu sei in ritardo su un mercato devi avere qualche cosa in più se vuoi riprenderti la clientela. Tornando al discorso di prima, l'altra cosa che bisogna capire bene è che la struttura del mercato cambia completamente. La struttura di cui siamo abituati, io dico il turismo di massa, le solite cose. Attenzione, qui dentro magari c'è anche il luxury, però è un'impostazione che segue l'itinerario, eccetera. Invece il turismo esperienziale porta una sofisticazione nella commercializzazione, una complessità che centuplica in modo incredibile il tema appunto della distribuzione. Perché quando andiamo alla cosiddetta massa di mercati, mi trovo di fronte a una infinita nicchia di prodotti. Sì, adesso non faremo qui il discorso troppo approfondito, ma vedete che stanno nascendo dei tour operator specializzati sull'enogastronomia, qualcuno su temi appunto più esperienziali, cioè su temi verticali. Lo stesso prodotto che tu fai poi non è mai uguale, perché il turista esperienziale vero, quello anche un po' più di livello, vuole la consulenza, quindi non compra su online, si informa online. Quindi online noi troveremo il prodotto commodity, il prodotto chiuso e quindi certamente online avrà e ha raggiunto una quota molto importante, qualcuno parla già del 40-50%, che è notevole. Voi sapete che TripAdvisor ha comprato, Vietor ha speso 200 milioni di euro, Musement è stata, questa OTA diciamo italiana, ma è stata acquistata qualche settimana fa dal TUI. Quindi certamente i portali che hanno dentro le esperienze, e io direi più che esperienze, le attività, quindi tours and activity, sta andando alla grande. Destination Italia, così cominciamo a dire, durante il TTG, e così cominciamo anche a dire una cosa interessante, il TTG ha cambiato nome e si chiama TTG Travel Experience. È sufficiente mettere la parola experience? No, è marketing, è vapore, quindi voi chi è venuto al TTG ha visto la parola experience usata e abusata ovunque, è tutto experience. Da questo punto di vista torno a dire è sempre stato experience, non c'è nulla di nuovo, invece dobbiamo cercare di capire che cosa vuole il mercato. Allora, intanto, scusate, torno indietro un secondo, questo mercato, dati presentati da Regione Veneto, cresce a misura, questo mercato esperienziale, più 65% in pochi anni. Il 40% della domanda vorrebbe acquistare prodotti esperienziali dove immergersi da protagonisti. Non è detto che ancora il 40% sia uguale al fatturato, ma la crescita è enorme. Quindi possiamo dire, senza tema di essere sventiti, che il turismo esperienziale prenderà sempre di più quote e supererà nel giro di qualche anno il 50-60%. Quindi il futuro è il turismo esperienziale. Allora dobbiamo organizzarci. Ecco, abbiamo visto che qualcuno ha cominciato a metterci il cappello e dobbiamo capire quello che diceva prima il nostro, diciamo, ospite di B-Test, il dottor Surico, che ci diceva appunto, Leonardo, ci diceva il tema delle passioni. Quindi il turismo esperienziale ruota intorno alle passioni. Allora cosa succede? Che la passione, tu sei appassionato di gastronomia, che così cominciamo a rispondere, è certamente il trend maggiore. Quindi dove c'è enogastronomia ci sono crescite incredibili, ma ogni, diciamo, passione ha la sua nicchia di crescita e potrei dirvi che la gastronomia ce la infiliamo dentro sempre, perché alla fine ci va sempre da finire a fare mangiare, digustare, eccetera. Ecco, però la passione di te che sei appassionato di boschi e quell'altro che arriva, che ha appassionato, ecco, queste due passioni che si incontrano creano amicizia. Questa amicizia crea la relazione, crea l'emozione e la memorabilità. Quindi le parole memorabile, unico e ripetibile hanno la possibilità di non essere vapore, ma di essere riempite di contenuto professionale. Cioè ci sono delle metodologie perché sulla base di, come dire, una capacità innata di empatia, sulla base del valore di un territorio che è diverso da un altro, si possono costruire appunto prodotti memorabili, unici e ripetibili. Il che riporta poi il problema a chi lo vende, perché se io vendo bene, allora ho messo insieme una buona offerta con un buon cliente, ma se io vendo una cosa, il frigorifero degli eschimesi, il eschimesi poi mi dice che gli ho rubato i soldi. Quindi bisogna essere capaci di fare consulenza. Questo apre uno spiraglio tra l'altro nella filiera, appunto, nella filiera che vende. Chi è la filiera che vende? Intanto fatemi di qualcosa, allora abbiamo detto che ogni passione a radice nel territorio diventa un pretesto per mettere al centro il consumatore. Comincio a dirvi, i cinesi, che è il mercato del futuro, non gli interessa in me la cultura, gli interessa fare, pescare, tagliare il vestito, fare. Ecco, il fare per il cinese è una cosa bellissima. Il gioco di ruolo è una cosa bellissima e posso dirvi che sta montando l'interesse della Cina verso l'Italia. Ecco, la Cina ha due segmenti di mercato, un segmento di mercato medio-basso spendente, noi lo chiamiamo il cliente, il turista, lo custa. Ecco, quello non lo vogliamo, lo mandiamo da qualche altra parte e ci sentiamo di portare invece il cliente di alto valore che ad oggi il cinese, diciamo, questo segmento è il più alto spendente. Quindi, cinesi, anglofoni, tutto il mondo che gli piace immergersi nel territorio. Ok, tra l'altro, ti devo interrompere, ma questo è un tema che affronteremo in uno dei prossimi webinar, proprio le caratteristiche specifiche di alcuni mercati che oggi sono interessati all'Italia. Allora, prima di passare la parola a Leonardo per una presentazione del BITESP, ancora un paio di sondaggi che ci fanno entrare nel vivo, anche per capire un pochino i vostri pareri. Allora, il primo è questo, quali sono le difficoltà per avviare potenziali attività di incoming ed eventi esperienziali nel vostro territorio? Se potete velocemente rispondere in modo tale che poi chiederò a Leonardo di commentare, oltre che a Maurizio, poi nella fase delle domande i risultati. Vi chiedo di essere rapidi, così rispettiamo i tempi. Potete appunto selezionare anche più di una risposta. Bene, ancora qualche secondo, se votate, veloci, 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 vediamo un pochino i risultati. Ok, grazie, chiudiamo il sondaggio, condividiamo i risultati. Scasso interesse delle istituzioni, 35%, difficoltà a collaborare e fare rete nel territorio, il 71%, quindi è un tema, diciamo, di cultura, di testa delle persone, poca promozione turistica, mancano le competenze, un 48%, anche questa mi sembra una risposta molto interessante. E allora, entriamo nel vivo del BITESP e cosa ci aspettiamo da un primo evento che mette a tema veramente l'incoming e il turismo esperienziale in Italia? Vediamo un pochino. Abbiamo messo qui qualche risposta, anche qui potete darne più di una e quindi il compito a Leonardo poi di farci scoprire cosa effettivamente ci potremo aspettare da questo grande appuntamento. Mi si prevede un'area di confronto e di collaborazione tra blogger e operatori turistici durante l'evento. Ancora qualche secondo per una vostra risposta. Grazie sempre della collaborazione. Vediamo un pochino i risultati. Chiudo il sondaggio se c'è qualcun altro, veloce. Chiudiamo purtroppo i tempi, condividiamo i risultati e do la parola a Leonardo per presentarci appunto la borsa nei dettagli e cercando di commentare anche le aspettative dei nostri partecipanti, che quindi per un 13% hanno a tema la vendita del prodotto a operatori italiani, un 32% a operatori esteri, vedete significativa la differenza, incontro con altri operatori turistici per fare rete un 71% e poi opportunità di aggiornamento professionale alle relazioni e la risposta al top con un 87%. A te Leonardo un commento e una presentazione di questo grande appuntamento di Venezia. Ecco, allora intanto volevo così sottolineare il discorso che è stato fatto inizialmente, cioè quello relativo all'attività delle agenzie incoming. Diciamo che per le agenzie incoming il turismo esperienziale potrebbe, anzi senza il potrebbe, è senz'altro come posso dire, anche una via d'uscita da quello che oggi giorno è la grave crisi dell'agenzia di agi tradizionale. Con l'avvento del web tutti sappiamo di problemi grossi che stanno vivendo tutte le agenzie tradizionali. E' chiaro che il turismo esperienziale all'agenzia di agi offre nuove opportunità, perché proprio l'agenzia locale che conosce, almeno dovrebbe conosce al meglio, quelle che sono le risorse turistiche ambientali del territorio, per cui quello che può vivere l'esperienza più interessante che può vivere un turista. Di conseguenza confezionare un pacchetto di questo tipo e proporlo al grosso tour operator straniero, eccetera, potrebbe essere la soluzione vincente per continuare a fare l'attività di agente di viaggi o meglio di consulente, diciamo di viaggio, consulente turistico. Cosa si aspetta, anzi cosa ci aspettiamo noi e perché è stata realizzata la manifesto? Allora, in pratica noi vogliamo raggiungere gli obiettivi che facevano parte del soldato, cioè creare la possibilità, dare l'opportunità agli operatori di incontrarsi, di conoscersi, di confrontarsi, di fare rete, di fare networking e di accedere a degli step formativi per aggiornarsi e per attrezzarsi, diciamo, al meglio per poter competere in questa nuova sfida. Il turismo esperienziale, come diceva Maurizio, è il futuro. È chiaro che ci vuole un nuovo modo di, una nuova mentalità, un nuovo approccio e ci vuole delle competenze, perché chiaramente non è che fare un pacchetto esperienziale, metti lì e lo fai, no, bisogna avere tante cose e soprattutto l'altro problema, che bisogna trovare diverse collaborazioni. Il discorso di fare rete in un territorio è fondamentale, perché chiaramente al turismo per confezionare un pacchetto esperienziale c'è bisogno chiaramente della struttura ricettiva, ma c'è bisogno dell'operatore che offre l'esperienza, dopo c'è bisogno del discorso commerciale per distribuire questo pacchetto in quelli che sono online, offline, nelle varie agenzie, eccetera, per cui l'importanza, diciamo, è fondamentale fare rete. Ho visto che tra le domande qualcuno chiedeva se c'era un'area per fare network, per incontrare blogger, eccetera. Allora, la VITES praticamente ha un'area espositiva, non grande per la verità, saranno una trentina di operatori che esporranno le loro offerte, questi operatori sono essenzialmente località turistiche, strutture recettive, gruppi di alberghieri e qualcuno che offre esperienze specifiche. Dopodiché c'è quello che almeno per noi è il piatto forte, diciamo, dell'evento, un workshop, è un workshop B2B per cui tra buyer e seller, di questi buyer ce ne sono oltre un centinaio, di cui la metà sono italiani e l'altra metà sono stranieri. È chiaro che noi abbiamo visto anche dai soldati che tutti cercano soprattutto il business con l'operatore straniero, è chiaro perché probabilmente l'operatore straniero, tutti noi vogliamo gli stranieri perché ci occupano alla bassa stagione, eccetera, eccetera, però anche quello italiano, voglio dire, non va diventato, anzi, quello italiano è l'uso più duro che sarebbe opportuno conservare. In questo workshop praticamente i seller avranno la possibilità di avere ogni giorno circa una ventina di appuntamenti prefissati, questo è importante perché ognuno in base a quello che propone, eccetera, può selezionare tra i buyer gli operatori che sono più congeniali per lui, sia per destinazione, per psicologia di turismo, di servizi che stanno cercando. Per cui ogni operatore seller avrà l'opportunità di fare circa 16-20 appuntamenti giornalieri, considerando che un appuntamento mediamente dura 20-30 minuti. È chiaro che avere l'opportunità di fare una ventina di appuntamenti prefissati con operatori che si sono andati a scegliere, eccetera, beh, io penso che possa portare un buon riscontro commerciale futuro. Oltre, diciamo, al discorso, come dicevo prima, del workshop c'è la parte espositiva e dopo c'è l'area Academy, praticamente tre giornate di formazione, sottolineo, gratuita per tutti i visitatori partecipanti all'evento, in cui saranno trattati argomenti relativi sia al turismo esperienziale, ma anche in modo più ampio a quello che sono le problematiche della promocommercializzazione del prodotto turistico alberghiero, per cui da come promuovere al meglio la propria struttura ricettiva, fino a quello che è la migliore distribuzione, i canali distributivi del pacchetto commerciale, la gestione dei canali di esse sul long online, su web e tante altre cose. Questi step formativi saranno tenuti da professionisti del settore, a partire dai consulenti di Artes che gestiranno tutto il discorso relativo al turismo esperienziale, per finire ad altre società che gestiranno la parte di web marketing, di consulenza alberghiero e così via. Questo è il tutto in tre giorni di lavoro impegnativo che però spero, nei nostri intenti, è quello che alla fine dia un ottimo riscontro commerciale. Grazie Leonardo e allora avete qui in sovrimpressione sul video alcuni appuntamenti che cureremo, come ha detto Leonardo, come Artes Academy nell'ambito del VITESPA Venezia 19, 20 e 21. Sono qui, sono tantissimi temi, sono circa 11-12, quindi non vi sto a leggere, avete un modo di scorrere qui, vanno dai pacchetti turistici e la rete come elemento strategico, il club di prodotto, qui faceva riferimento Leonardo, il tema dallo storytelling allo story living e poi il turismo industriale come opportunità di turismo esperienziale e poi ragioneremo sull'agroalimentare, sull'enogastronomia, su sport e natura e le esperienze di turismo con i locali, il tema del web che abbiamo visto essere importante, così come il turismo e esperienza di ritorno dei nostri immigrati e poi le professioni sull'incambio, tutto questo con esperti di ogni tema proveniente da ogni parte d'Italia. A questo punto abbiamo ancora dieci minuti per poter, dieci minuti e un quarto d'ora, per il nostro dibattito, vi chiedo di intervenire alzando la manina, nel frattempo che vi prenotate, io ho qui già alcune domande che rivolgo ai relatori, chiedendovi appunto di intervenire, quindi c'è una prima domanda che dice la difficoltà nel reperire i dati utili per costruire tour esperienziali e capire cosa vogliono i turisti, ci sono indagini ufficiali a cui attingere per studiare il nuovo mercato? Questa è una domanda che ci è arrivata, se qualcuno vuole prenotarsi per intervenire... Sì, finalmente posso provare a rispondere la domanda ai relatori, chi vuole può intervenire. Allora, questa domanda ha una risposta in rete, perché i dati ci sono, ma nessuno ha tutti i dati. Allora, si stanno ormai dilagando il tema dei big data, ci sono alcuni tour operatori nazionali che sanno manovrare sui big data. Big data vuol dire che andiamo a pescare nei dati su TripAdvisor, sulle recensioni, eccetera, e tramite dell'intelligenza artificiale ne emergono tendenze che sono di settore, passioni, ma anche di popoli, di età. Quindi è il famoso la massa di mercati, quindi cominciamo ad avere un nucleo di soggetti che sanno fare questo. Ora, uno dice, ma io sono piccolino, come faccio ad accedere? Come si fa? Bisogna entrare in un progetto di marketing territoriale, quindi avere una idea, avere un sentimento di come far nascere nel territorio dei prodotti avanzati, è quello che noi stiamo facendo in diverse regioni d'Italia, con dei bandi dove o li abbiamo vinti noi, progettati noi con dei partner, o viceversa noi siamo un partner di qualcuno che aveva, per esempio in Sardegna ci hanno chiamato, perché faremo una formazione, preparazione, ecco il nostro percorso completo prevede la formazione, la progettazione e la messa a punto di un prodotto da commercializzare. Ad oggi è molto difficile avere qualcuno che ti dà tutto questo percorso chiave in mano. Ecco, lo faremo all'interno di un bando internazionale, Sardegna, Francia e Spagna, dove la prima cavia saranno appunto i sardi e noi lavoreremo con i pastori. Ma non pensate ai pastori di cento anni fa, i pastori ormai parlano due lingue, qualcuno ha anche la laurea, perché poi fanno anche i formaggi, le cose, per cui diciamo il mondo sta cambiando. Ecco, quindi il mio pensiero su questo è lavoriamo in rete, le università hanno molti dati, identifichiamo dei buoni esperti di marketing territoriale e di destination management, coinvolgiamo le competenze, abbiamo poi responsabili di progetto capaci di integrare le competenze e ne usciremo vivi con successo. Bene, ci sono altre due domande, quindi poi Leonardo può rispondere sì a questa, a cui già in parte ha risposto Maurizio. C'è una che dice se è possibile avere il calendario degli eventi dell'Academy, lascio la parola a Leonardo, ma già c'è tanto sul sito, poi ci dirà lui, e poi come sfruttare le esperienze per le wedding destination in modo originale e quali sono le tendenze. Dopodiché chiedo, se qualcuno vuole intervenire con il proprio audio, di farlo quanto prima, a Leonardo la parola. Allora, riguardo a quello che sarà il calendario dei vari eventi formativi, diciamo che già a fine settimana sarà messo online il calendario definitivo. Comunque diciamo questo, che saranno presenti in contemporanea due o tre sale corsi e in contemporanea per cui verranno svolti diversi temi. Come dicevo prima, la parte di atturismo sperenziale è stata affidata alla società TES, la parte web, web marketing, eccetera, ad MM1, che è una delle più grandi web company qui del Veneto, specializzata soprattutto nel marketing digitale, nell'ambito turistico. Ad Hotel Doctors gli sarà affidata invece, è stata affidata, la parte di consulenti di formazione nell'ambito alberiero, del marketing alberiero. Diciamo questo, che saranno alcuni argomenti fissi che saranno replicati, se si può dire, nelle tre giornate, perché chiaramente il visitatore, di solito, anche specialmente quello che viene da fuori, potrà venire uno dei tre giorni e non stare lì tutti i tre giorni, per cui gli argomenti principali saranno trattati nelle tre giornate. Dopodiché ci saranno alcune differenziazioni tra una giornata e l'altra, che affronteranno un tema di una cosa e di un'altra. Dopo ci saranno dei convegni, in particolar modo posso già segnalare, oltre al convegno introduttivo del lunedì 19 alle ore 10, il pomeriggio, proprio CNA che nominavo prima, organizzerà, già organizzato e già previsto, un incontro, un seminario di due ore, proprio per parlare e discutere del turismo esperienziale nell'ambito artigianale. Comunque, come diceva Ettore, adesso a fine settimana, saranno messi online in tutti i programmi, tutti i programmi dettagliati, delle tre giornate, per cui per partecipare, passare una sera a registrarsi, eccetera, eccetera. Dopodiché, per quanto riguarda, rispondo un attivino al discorso, del wedding, del destination, eccetera. Allora, è chiaro che l'Italia è uno dei paesi più ricercati al mondo come destinazione di matrimoni, eventi, varchi, eccetera. È chiaro che qui, oltre chiaramente ad avere la location giusta, per location intendo sia località che struttura, dove effettivamente dopo realizzare l'evento, dopo qui il fatto di abbinare a questo anche la creazione di qualche evento collaterale è una cosa, diciamo, fondamentale. Questo chiaramente si lascia un po' la fantasia, quella che è la creatività dei wedding planner che oggigiorno propongono diverse cose, dai che chiaramente uno può organizzare un matrimonio a Venezia e lo può realizzare in costume, può realizzare un matrimonio in un'altra località, organizzarla sempre, organizzarsi, mettendoci vicino a un evento similare. E' chiaro che noi come Italia, almeno nell'ambito del turismo, nella moda, del design e di poche altre cose, noi non siamo secondo nessuno. L'Italia sicuramente, agli occhi del mondo, è una bellissima destinazione di cerimonie, di matrimoni, eccetera. Per cui è un segmento di mercato, io credo che molti operator si stanno invitando su questa eminenza. Non sento più. Chiedo scusa, dicevo. Grazie. Abbiamo spazio per un paio di domande. La prima live di Roberto Mazzagatti a cui do l'audio. Buonasera, Roberto. Sì, buonasera. Roberto Mazzagatti, sono di Messina, in Sicilia, ho un tour operator in Camming, in Sicilia, che adesso stiamo trasformando un brand che si occuperà esclusivamente di lusso. Poi mi occupo di destination management, con una società che si trova, per quanto riguarda la comunicazione e il marketing, a Londra. La domanda principale è quella legata ai turisti high-spender, che come sapete, diciamo, nei prossimi dieci anni si riverseranno circa 200 milioni di cinesi in Europa. quindi dovremmo capire se siamo effettivamente attrezzati, perché noi abbiamo avviato una start-up, però dall'altro lato questi turisti high-spender sono, diciamo, identificati come soggetti che viaggiano da individuali, che da un momento all'altro possono spostare, ovviamente, la loro attività turistica intesa come esperienza. Faccio un esempio pratico. Se mi arrivano due cinesi a high-spender e si fermano al Townhouse Gallery di Milano, quello che loro richiedono, chiaramente, sull'immediato è quello di avere poi un jet privato a disposizione che si possa spostare da Milano a Venezia, per esempio, per poter poi fare un'esperienza che so magari al casino di Venezia. Quindi dovremmo un attimino capire quali sono anche le città attrezzate per poter fare una cosa del genere. Perché in realtà una delle città più attrezzate è Milano. Venezia, in questo momento, ha sicuramente degli spazi di soggiorno, però mi rendo conto che non c'è in effetti una possibile organizzazione rodata come per esempio l'atterraggio di elicotteri o di altro. Quindi volevo capire come si può ipotizzare un lavoro di rete sul territorio per poter migliorare, non dico la parte infrastrutturale o strutturale, però quantomeno a dare dei servizi sempre più idonei a quello che troviamo in altre parti del mondo. Perfetto, grazie Roberto. E allora, con un'ultima domanda che giro ai relatori, chi vuole poi potrà intervenire in modo tale che poi nel giro di cinque minuti siamo in grado di chiudere questo webinar. che intengo sia stato molto interessante. La domanda che ci fa un altro partecipante è bisogna avere particolari licenze per il turismo esperienziali? E quali? E allora, con la domanda di Roberto, quest'ultima, un ultimo giro dei nostri relatori. Allora, per quanto riguarda il discorso dello sviluppo del turismo esperienziale per quello che era il mercato cinese, eccetera, è chiaro che in questo bisogna che si muovano molto anche le aziende, gli enti pubblici perché chiaramente il fatto di dire, diciamo, le enti pubblici e dopo quelli che sono gli operatori che forniscono dei servizi di altro livello perché chiaramente il fatto che a Venezia ci possa essere la pista di atterraggio di questo, di quell'altro, ci possa essere un collegamento così o quella chiaramente l'operatore deve fare i conti con quello che è la realtà. Io faccio un discorso così tanto per capirsi bene. Noi abbiamo, io personalmente abito a Padova, però io molte volte sono appassionato di l'Ampica, eccetera, ma io preferivo andare a Lignano e non a Jesolo perché? Perché per Jesolo non c'è autostrada, c'è strada normale, si fanno tante cose, eccetera. Per Lignano invece ci sono collegamenti molto più facili in un'ora e un quarto arrivere a Lignano. A Jesolo rischi molte volte di arrivare in un'ora e mezza. Questo cosa vuol dire? È chiaro che questo dipende dall'amministrazione pubblica, dalla rete di comunicazione, eccetera, per cui sicuramente per andare in contro tra le esigenze di determinati mercati, soprattutto il discorso lusso con gli alto livello che chiedono dei servizi particolari e lì o si è in grado di fare delle partici con degli operatori delle cose, ma dopo bisogna vedere se effettivamente ci sono le condizioni per realizzare queste cose. L'ultima domanda, cosa avreteva? Non me l'ho riposto più, mi è passata. Bisogna avere particolari licenze per fare turismo esperienziale? No, per quanto riguarda, allora, per quello che ne so io, il discorso delle licenze diciamo esiste tuttora per quanto riguarda l'intermediazione turistica, alcune figure professionali, tipo direttore tecnico, l'agenzia di viaggio, l'accompagnatore, la guida, eccetera. È chiaro che più che avere delle licenze io sottolineerei di avere delle competenze. perché è chiaro che è come ho detto prima improvvisarsi a realizzare un pacchetto esperienziale, per carità uno può avere tutte le capacità, eccetera. Secondo me, invece, se uno riesce a, diciamo, ad avere la collaborazione di un consulente esperto, diciamo, che ti farà raggiungere l'obiettivo prima e con la sicurezza di quello che se va fatto. e io su questo condivido proprio l'opera che sta facendo l'attività che fa Artes, quello di formazione e aggiornamento professionale, proprio per la creazione di questa nuova figura che loro chiamano operatore appunto di turismo esperienziale, che secondo me è fondamentale, perché io dico sempre una cosa, ognuno deve fare più programmi stile, per cui in un mercato che chiede sempre più competenza, specializzazione, eccetera, io penso che anche nel turismo esperienziale sia importantissima questa figura professionale, che dopo fra qualche tempo venga creata una, come posso dire, anche un albo professionale, un qualcosa che richieda la vicinanza, eccetera, che io sappia per il momento non c'è, però non escludo che per il prossimo futuro ci possa essere. Grazie Leonardo, ultimo giro Maurizio, Allora, dico velocemente tre cose, una rispetto a una domanda dei blogger che era rimasta prima, il ruolo dei blogger, eccetera, allora, io, quello che sto vedendo è, che è condiviso da molti colleghi del settore, è la seguente cosa, allora, incoming, noi italiani non siamo molto preparati, mediamente, poi magari qualcuno è bravissimo, a fare incoming moderno, per esempio, Destination Italia è un nuovo player che ha assorbito, voi sapete, Gart Tour che si sta riorganizzando per affrontare l'incoming in modo moderno, per esempio, è stata recentemente assunta una Experience Contractor che non c'era prima, che cura proprio, diciamo, la messa in catalogo di questo grande grossista, del più grande grossista che abbiamo in Italia, esperienze fatte in un certo modo, ecco, questo tanto per dirvi. La seconda cosa, il mercato sta veramente cambiando proprio per le infrastrutture anche tecnologiche e io sto vedendo che il ruolo del blogger non solo sarà un ruolo di promozione e di influenzamento, ma ritengo e su questo noi di Artes faremo del lavoro, così vi do una piccola anticipazione, il blogger può essere un vero e proprio canale di vendita per fare i gruppi, per fare le animazioni, per portare gli appassionati di quello specifico tema in una destinazione a fare un'esperienza su quello specifico tema perché la passione è tipica del blog mentre è molto più difficile gestirla con un ufficio senza viaggio in modo residenziale dove attinge un bacino molto più ristretto per sua natura generalista, uno apre il negozio e attira quelli che sono lì vicino. Il blog attira una popolazione che può essere nazionale e internazionale e dice troviamoci tutti il 25 di febbraio a fare il carnevale del 1500 in quel paesino lì. Ecco, allora vengono lì 200 persone perché sono interessate a quella cosa e via cantando adesso non faccio altri esempi di passioni verticali ecco per esempio ho incrociato il turismo dell'horror già a Londra lo fanno con la scusa di Jack lo squartatore ma per esempio una volta a Rovigo noi abbiamo in un corso abbiamo fatto un palinsesto che valorizzava un libro dell'horror scritto da un famoso professionista da un famoso scrittore che aveva scritto il libro della cittadina di Loreo che non sono sicuro che abbia un talento turistico ma diventa molto turistica per chi è appassionato di turismo dell'horror questi turismi non troverai il tour operator che fa il tour operator dell'horror troverai i blog cioè troverai dei segmenti verticali che interessano però delle nicchie che globalmente sono molto numerose riguardo la licenza ho poco da aggiungere alle bellissime parole che ha detto Leonardo perché è proprio così noi abbiamo fondato un'associazione professionale che si chiama Assotes che è riconosciuta dal ministero e che ha il registro degli operatori per il turismo esperienziale è una licenza no non è una licenza è una cosa però che caratterizza che certifica la competenza così quando il prodotto è fatto noi sappiamo che quella persona lo sa fare secondo dei criteri che ha imparato e quindi non è improvvisato nulla da togliere al prodotto improvvisato alcuni prodotti sono eccezionali magari vanno bene per la vendita online non vanno per niente bene per la vendita sulla filiera perché invece lì vogliono garanzie mi pare che ci fosse ecco qua c'era un'altra domanda che ho letto ma Assotes è disponibile a fare attività di promozione ma certo che sì ho parlato per esempio qualche settimana fa con il responsabile del GAL di Calabria della zona tropea e vinitrofa faremo un workshop e certamente dobbiamo diffondere questa cultura mettendo in rete gli operatori ecco ieri abbiamo un'altra notizia abbiamo finalmente dato il via al progetto Story Living finanziato dalla regione Veneto e eravamo lì una trentina di persone tra occupati qualche disoccupato agriturismi musei con una pianificazione che mette in rete il territorio proprio secondo lo spirito di cui stiamo parlando potrei dirvi anche molte altre cose ma mi fermo qui grazie Maurizio le tante altre cose avremo modo ci auguriamo di poterle raccontare e vivere insieme al BITESP e quindi vi ricordo Venezia 19, 20, 21 novembre e ci si può iscrivere vedete il sito che sarà ulteriormente aggiornato e io vi ringrazio penso anche a vostro nome ringrazio innanzitutto i nostri relatori di oggi in particolare Leonardo Surico augurando un grande in bocca al lupo un successo per questa prima fiera che sentiamo un po' nostra non solo noi ma penso tutti quanti coloro che hanno a cuore l'Incoming in Italia e vi ricordo i prossimi appuntamenti dei nostri webinar che trovate sul nostro sito e attraverso le nostre attività di promozione quindi il BITESP e il prossimo appuntamento in cui fisicamente avremo modo di incontrarci e Leonardo penso vi abbia dato ampia testimonianza di come veramente sarà un bel evento magari anche una giornata da vivere intensamente veramente può valer la pena al di là del posticino niente male voglio dire in cui si tiene la borsa diciamo che è un posto da scoprire turisticamente sempre e comunque grazie ancora e un buon pomeriggio a tutti e grazie arrivederci buona serata grazie a voi buonasera grazie ancora e in bocca al lupo alla BITESP allora e grazie a Leonardo che ci ha creduto e noi volentieri siamo con te e Leonardo per rendere forte approfitto per dire che nel turino esperienziale il cliente è parte del prodotto per cui anche chi verrà come espositore o come buyer dà succo e sostanza a un progetto che sicuramente avrà futuro grazie ancora buona serata arrivederci ciao ciao ciao